Tanto parto io, no? E allora... Vai. Sì, due. Vai. Non voglio dire che lo sapessi, ma non lo sapevo. È vero, capisci, vai. Se hai trovato un euro in un'altra... Basta. Quindi la mia offerta cash è un lavoro patologico. Potrai essere venuto. Vai. Eh, io parto veloce. Il problema è se lui riesce a fermarmi. Sti cazzo. Come? Quattro. E cos'è? Ci riproviamo, sì. Vado? Sì, sì, sì. Come le immagini, i mezzi che però non c'è nulla. Sono da rega. Vai. Tomba. E non è che torna. Vai. 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 Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie. ed è 1-1-1 1-1 terra non sto scherzo sticco vai scusa 4 vai come va? ok 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 top deck non c'è altro senso ringrazio quante carte hai mamma? 2 2 non la conosco e l'altro è una misteriosa carta misteriosa molto misteriosa per ora ciao oh voglio restare due e mi ci lo pagherei un frazionale vai mi sape chi mi da prossimo vai che mi sape chi mi ha chi mi ha mi sape chi mi ha e mi ha Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti. a tutti.